Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere come vado sull'overboard, adesso vi faccio vedere come ci vado in ginocchio. Scusate, sono bravo. In realtà io l'ho venuto da tantissimo tempo, eppure devo essere più libero ancora. Infatti ci sono anche in piedi. Guardate come sono bravo. Intanto qua sul computer vedo la tasto bar che si sta ricaricando. Non so perché, da robarmi in Windows. Adesso è il momento per prendere come ci vado in piedi. Uno, due. Un po', un secondo. Benissimo, equilibrio. Ah no, no. Mi ero girato male, mi devo girare la parte dove ci sono le luci. Sì, infatti ci sono le luci che pelle. Che beline però le luci. Ok. Sono sul tappeto. Ok. Giriamo. Giriamo. Eccomi qua. Ah, in realtà devo alzare, girare così. Ora aspetta così. Così si vede sia la parte lì che la parte lì. Via. Si vede. No, se che devo girarlo ancora di più. Però da quella parte è così. Non so se adesso mi vedo però non riesco a renderlo più. Si dice più largo lo schermo. Non ci riesco solo così. Ho toccato il divano sulla ruota. Ah, e comunque qua sotto il divano, con uno dei miei divani, c'è il caricatore. Uffì! Ok, ecco qua il caricatore. Adesso non so. Perché il hoverboard l'ho già lasciato caricare, quindi il caricatore non serve. Adesso mi vedo sul tappeto. Ah, sì, me l'ho ricordato farvi vedere che io so anche far così. Aspetta. Aspetta, così? Come si fa? Così. Abbasso. Uh, stavo cadendo. Ma lascia, sta. Ok. Uh, ma che è? Ok, stavo a fare questo. Adesso vi faccio vedere l'overboard. Dove si muove, perché altrimenti non credo che riuscite a vedere. Guardate. Ecco, non so se quelli è maltrattato, però mi ha mostrato molto figa. Insomma, è già da 4 minuti che registro, eh. È già da 4 minuti, vabbè, vi faccio vedere l'ultimo giro e poi sto con la registrazione. Vedo lì. Sì, vabbè, non mi vedo, perché c'erano solo le mani. Ciao, ragazzi. Così, prendete un mio tappeto, però. Almeno mi vedo lì. Qua devo fare. Attenzione, non prendo i mobili. Che bella quella mossa là. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.